Musica Let's go! Benvenuti lupetti in questo nuovo episodio di Poké Park Wii La Gran Aventura di Pikachu Nello scorso episodio siamo andati da dei Pokémon per fare amicizia E oggi, come detto nello scorso episodio, andiamo a fare amicizia con tutte le evoluzioni di Eevee Eevee compreso Quindi, adesso siamo nel catere Dove? Dovremmo fare amicizia con Faryon L'evoluzione di fuoco di Eevee Vediamo un po' dov'è Potrebbe essere qui Oppure no Magari qua sotto Vediamone Quasi quasi faccio un piccolo taglio finché non arriviamo da Faryon Non lo trovo Faccio ancora un attimo Però ancora per un minutino A cercare Faryon Poi attimamente faccio un taglio Aron Ceodud Allora, vediamo se per caso è qui Eccolo lì Trovato Scusa Oh, vedo che hai tanti amici Vuol dire che sei molto forte Che inizi di fare una gara con me? Ti va una sfida? Sì Ok, cominciamo Allora, vediamo se Sei forte tu Facciamo amicizia Ok, Faryon Quindi Un attimo Ok Quindi non c'è nessun Nessuna evoluzione di Eevee Nella Miniera Quindi possiamo andare direttamente Alla spiaggia Sì E spiaggia Dove c'è Vaporeon Allora Presumo sia un video molto corto Adesso vedrò Se per caso Dopo fare ancora qualche amicizia Oppure no O anche magari un super gioco Non sarebbe male Devo andare di qua Allora Vaporeon di solito era qui E adesso non c'è più Perfetto Dimmi che sei qui Eccoti qua Vaporeon Il mare Il mare è meraviglioso Vedo che tanti amici Gioca un po' anche con me Una partita da chiapparello Sì E allora Si comincia Allora Adesso è uno sprint Al massimo E al massimo Della potenza Quindi per forza Devo riuscire a prenderlo Wow Che sprint Impersonante Memorabile Credo che saremo Grandi amici Io e te Alla prossima Corsa allora Vedrai che Non perderò Allora Andiamo da Gresion Ok Adesso andiamo Come si chiamava Il posto Ehm Al ghiacciaio Ok Allora Adesso La cosa difficile È trovarlo Perché o mi va Bene E lo trovo subito Altrimenti Potremmo stare qua Anche un bel po' di tempo Quindi Spero Di riuscire A trovarlo in fretta Magari Qui No Qua Nel frattempo Prendiamo anche Un bel po' di bacche Che vanno Sempre bene Allora Vediamo un po' Proviamo Andare al centro È l'unica Perché comincia A laggare Cavolo Un attimo Qua però No Più avanti È la strada Però Qui torniamo Qui Magari Qua O ci siamo Già stati Forse Proviamo a vedere Dove c'è L'apras È l'unica L'unico posto Dove mi può venire in mente Cavolo Comincia a laggare Un po' troppo Eh sì Un attimo Che sistemiamo Un po' Il capture card Vediamo se per caso Così va meglio No Allora Mi viene solo in mente Che potrebbe essere Giù alla funivia Perché qua non lo vedo Quindi Ah no Eccolo qua Ehi Ti va di fare una gara con me? Giochiamo ad acchiapparello? Sì Pronti alla partenza Ah Mi hai acchiappato Da quanto tempo Non giocavo così In compagnia Mi sono divertita Vorrei tanto essere tua amica Forse non si diriebbe Ma sono Ma sono tenace E non mi piace perdere E E la prossima volta Contro di te Non perderò Allora Io ti Direi di andare Alle rovine Adesso Perché lì Possiamo trovare Ivi normale E Joltreon Rovine Ricordo che poi Alla tenuta Ci sono Umbreon E Espeon E poi L'altra evoluzione di Ivi Quella floreare Che mi sfugge il nome Si trova Nel bosco E poi Dovremmo aver fatto Allora In molti anni In molti hanno tentato Di raggiungere Rosi celeste Ma nessuno L'ha fatto In modo tanto Sfavillante Come te Chi ci di una sfida Si In posizione Bene Così abbiamo anche Un nuovo amico Cavolo Sei molto in gamba Anche più di quello Di quello Di quello che pensassi Ma te i pokemon Che solcano I cieli del pokepark Sono avversari Molto più temibili Di me Allora Dove Diamine Sei Joltreon Doveva essere Qui Perché non c'è Sono pronto A scacciare A scacciare Via tutti Quei che Provano a infiltrarsi Nella rosa Ci resta Il cielo Cercavo Proprio Un avversario Che dice Una sfida Si Ok Cominciamo Ok Abbiamo Finito Hai un'abilità Fui dal comune Lo riconosco Capisco perché Staraptor Ti ha accettato Come amico Anch'io vorrei A tua amicizia Ok Noi siamo Già amici Noi Come Mew ha preso Le mie sembianze Vuoi dire Che ha capito Quanto sono Forte Non vorrai Affrontare me In una sfida Si Ascolta Ti concederò Altre sfide Ti concederò E la pelle dura Tu Ti concedo La mia amicizia Hai mai incontrato Blasiken Al catere Nel suo supergioco Squazza roccia E uno spasso Allora Il fatto è che Joltron Dovrebbe essere qui E non capisco Il perché Non ci sia Qui non c'è E allora Torniamo più tardi Che devo dire Andiamo Alla tenuta È l'unica Torneremo Per ultimo Perché io posso Guardare anche Qui Ma non mi Se No Vabbè No Qui Oh cavolo Ah Magari Qui Ma non credo No No Ok Posso uscire Per andare Alla magione Allora Ok Perfetto Trovate L'uscita Alla Tinuta Dai Allora Allora, vediamo un po' Potrebbe essere qui Una delle due evoluzioni di Eevee No Quindi Andiamo avanti Saliamo Qua? No Vediamo un po' Qua dentro? Possibile no Qua è dove c'è Rotom, quindi no No, allora Esci Esci Perfetto Non li trovo Vediamo che sono qua Silveon e Umbreon Il fatto è che si muovono e fai più fatica a trovarli Allora Umbreon è qui Vedo che hai tanti amici Forse tu riuscirei a collegare il nostro con altri mondi là fuori Ti va una gara da chiapparello? Sì Ok, cominciamo Ok, cominciamo Impersonante quello che sai fare Volei tanto la tua amicizia Tra poco Espeon Si farà vivo Ok, perfetto Per ottenere l'amicizia di Espeon Da un po' E diventare amici Con Umbreon Perfetto Questo palazzo non cambia mai Come se il tempo ci fosse fermato Ti va una gara da chiapparello? Sì Senza indugio Cominciamo Prova a prendermi Dai Pikachu entra Dov'è? E' salito? Non ho visto Dov'è? Eccolo qua Eccola qua No beh Espeon? 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 Cavolo Ho paura di non riuscire a prenderla Ok Che Riesci a prevedere i miei movimenti? Comunque mi stai simpatico Spero che saremo buoni amici Forse non sembra Ma io amo i super giochi Chiami pure quando fai il super gioco di Dusknoir Allora Devo dire una cosa Io ho letto che in questo gioco Non c'è Sylveon Io onestamente non so quando il Sylveon è stato introdotto nei giochi Pokémon Quindi Presumo Non ci sia Quindi Adesso Andiamo Alla piazza Dove ci dovrebbe essere Ivi normale E poi andiamo direttamente Al bosco Dove Dove c'è la versione di L'evoluzione di Ivi Quella Floreare Quindi Piazza E poi torneremo Alle Ritorneremo Dove Avevo detto che c'era Joltron Allora Ivi L'io l'ho sempre visto qui Quindi Spero Ci sia ancora Non credo Sia qua sopra Allora Facciamo così Andiamo prima qua Nel bosco E poi ritorniamo alla piazza E poi andiamo Di nuovo Alle rovine Ricordo domani Ci Dedicheremo A Sia di Allora se riusciamo a trovare A qualche amicizia Nuova Ma L'episodio che faremo domani E' concentrato per di più Sulle password Lifion Wow Hai un sacco di amici Ti va di giocare La chiapparello Con me Dai giochiamo A la chiapparello Si Bene Cominciamo Allora Bene Cominciamo allora Inizio a scappare Ok Ah Mi hai acchiappato Però mi sono proprio divertito A giocare Ad acchiapparello Con te Giochiamo ancora Ok O la siamo amici Allora Vediamo un po' Adesso Cerchiamo Eevee A quanto siamo? 155 Perfetto Togliendo ancora Due pokemon Quindi Eevee Ejoltrion 157 Siamo messi Veramente Molto bene Poi domani Faremo sì Qualche amicizia Ma per di più Le password E poi Dopodomani Ci concentreremo Su tutte le ultime amicizie E se ci sarà E se ci sarà un finale Alternativo Lo vedremo Perché se vi ricordate Nel finale Hanno detto Più amicizie Facciamo E più Tipo arcobarreni Ci saranno Una specie Di cose del genere Quindi a me viene Da sospettare Ci sia Un finale Alternativo Se un Un Gira Gira mondo E Oggi Dove te ne andrai? Ah Non possiamo Diventare amici Di Eevee? Oh Che delusione Allora No Però possiamo Diventare amici Forse Non qui Ma da qualche parte Si Dov'è il Il Ok Trovato I Leia 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 Allora Allora, Eevee per essere nostro amico dobbiamo andare, allora, è qua, quindi facciamo così e dovremmo essere arrivati, perché a me viene un piccolo dubbio. Qua mi sono informato adesso e si trova Eevee, quindi per magari diventare amici di Jolteon bisognerà prima diventare amici, cavolo, vabbè, diventare prima amici di Eevee, come abbiamo fatto prima con Umbreon che poi è arrivato Espeon. Allora, qua ci torneremo dopo, allora, dovrebbe essere qui Eevee, se non è tipo qua, eccolo qua. Complimenti per essere giunto fin qua, ma procedi con attenzione, vuoi fare una gara con me? Eh? Giochiamo alla Chiapparello? Sì, bene, allora inseguimi. Ho perso, ma vorrei essere tuo amico, mi piacerebbe vedere tante zone, chiami per i super giochi. Ecco qua, Jolteon. L'ultima evoluzione di Eevee, ma pari... ma pari... ma pari... Uffa, ma perché se non vinco nelle gare nessuno vuole diventare mio amico? Beh, poco importa. Vuoi fare una sfida? Sì. Bene, cominciamo. Allora, ok, posso colpirti e fare anche così, perfetto. Allora, testata e poi ultimo colpo, un bel fulmine. Fine. Hai la pelle dura, tu. Ti concedo la mia amicizia, vieni a trovarmi quando vuoi. A proposito, hai mai provato il super gioco del catere? Si tratta della Vortico Fiamma di Reperior. Te lo consiglio vivamente. Alla prossima! Ok, adesso possiamo andare da Jolteon. E poi vi saluto. Che tristezza, tristezza. Manca lo so, poi dopo due episodi e l'esperienza è finito. Dove è veramente l'ora di portare poi il prossimo anno, Poki Park 2? Che è veramente un bel titolo. Ma noi siamo amici? Un attimo. Tua intelligenza, forza e coraggio in abbondanza. Di certo giungerei dove altri non hanno potuto. Vuoi fare una gara? Eh? Allora giochiamo un'acchiapparello. Sì. Bene, fai un'idea di che patta sei fatto. Cavolo. Dai che sei posato, veloce. Cavolo. Devo usare il fulmine. L'unico modo per bloccarlo, secondo me. Fermo lì. Ti prego. Cavolo. Cavolo. Sono sicuro che sei molto più forte di così. Se vuoi vincere devi considerare bene il ritmo in cui colpisci. Forse dovesti fare un salto alla piazza del Poki Park per farti insegnare qualche trucco sullo sprint da ponita. Già fatto, quindi ci riprovo. Grande. Non per niente i tre Pokémon a guardia delle parole d'ordine hanno riconosciuto il tuo valore. Anch'io vorrei la tua amicizia. Adesso Joltron a noi due. O Joltron. Joltron. Hmm, vedo che hai proprio tanti amici, vuoi dire che hai vinto molte gare, però non credo che tu possa nulla contro la mia eccelsa velocità. Proviamo a confrontarci in una gara. Vuoi giocare da chi apparello? Sì. Bene, allora inseguimi. Sì, però con tutti davanti... E dove è andato? Togliti! Dov'è? Eccolo qua. È fatta. Boh, tutte le evoluzioni di Eevee, più Eevee compreso, tutti nostri amici. Perfetto. Hai talento in abbondanza, ma la prossima volta ci metterò tutto me stesso. È stato divertente. 159. Ok, quindi io vi saluto e nella prossima parte di Poké Park Wii, la vera eventura di Pikachu, ci concentreremo su le password. Quindi, ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie per la visione!